Si chiama Astrid Bet, è una magnifica modella che ha only fans ed ha anche un Instagram molto edificio. La donna in questione sta le terrabbette spopolando a infatti un sacco di persone che la seguono, ha un sacco di followers, ha un sacco di utenti che per l'appunto non dispressano il suo operato. E' una donna straordinariamente incredibile nel suo fascino, ha una chiama pazzesca di endoplatino, un fisico genoico, procace, estettivamente parlando, molto sexy. Questa donna è diventata ricca a un sacco di soldi, infatti con tutti i contenuti oltre e pubblica si è riuscita a comprare una Tesla e un video video è riuscita a viaggiare per tutto il mondo. Dall'Oceania, questo continente che fa parte anche l'Australia, l'Oriente, l'Asia, l'America, il Giappone, l'Aceania, insomma ha fatto ogni tipo di esperienza grazie ai soldi di guadagnare i poli passi. Sembra che i poli passi hanno infatti guadagnato un sacco di soldi. Questa donna, come anche tutti gli altri, mi sono una vera e propria prova tangibile. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, vi può finire ad altri video, iscriveretevi, seguite al commentario, ciao a tutti.